Sindaco, ieri sera è arrivata l'approvazione del bilancio consolidato, un'approvazione importante anche perché era necessaria per avere oggi il via libera dalla Commissione per l'assunzione degli LSU. Sì, grazie alla maggioranza perché l'opposizione uscendo fuori dall'aula ha dimostrato di non volere l'interesse della città e non volere l'assunzione di altri, ho fatto lo schema stamattina e sera, 359 tra tempo indeterminato e determinato operatori e operatrici, quindi dipendenti che andranno in particolare nelle scuole, nei parchi, nei cimiteri, agronomi che non avevamo più nessuno, polizia municipale, assistenti sociali, psicologi. Quindi andiamo complessivamente nell'ultimo anno a 1.049 persone assunte. Se consideriamo che il nostro è un comune in predissesto, sempre pressato da vincoli normativi e finanziari da parte di tutti i governi che si succedono, penso che stiamo facendo davvero un grandissimo lavoro, fatto di tecnica, di competenza, di professionalità, di coraggio. E ancora una volta ieri la maggioranza purta tante difficoltà ha dimostrato coesione e compattezza, quindi una bella notizia per la città perché significa avere più servizi, avere uffici che non chiudono. Ed ecco abbiamo dimostrato tra venerdì e lunedì chi fa gli interessi politici solamente di parte, personali e chi invece continua a lavorare per la città. Ancora una volta l'opposizione ha perso l'occasione di fare un'opposizione costruttiva, di fare suggerimenti oppure di votare il bilancio consolidato che significa assumere lavoratori. Invece no, hanno cercato fino all'ultimo di far mancare il numero legale che avrebbe comportato, se non avessimo approvato ieri il bilancio, la non assunzione di tutte queste persone. Ecco la differenza tra la maggioranza che sostiene Luigi De Magistris e un'opposizione che ormai pensa solamente alle campagne elettorali.